Buonasera a tutti, un caloroso ben ritrovati da tutta la redazione di Nuovi Lavori in Corso a questa puntata numero 205 del magazine di informazione sindacale curato dalla CGL di Parma che vi propone notizie sul mondo del lavoro e dei contratti, diritti, la previdenza, lo stato sociale, l'immigrazione, la tutela del consumatore e apriamo oggi la nostra pagina principale su un tema buy abbastanza approfondito donne e lavoro, si avvicina infatti l'8 marzo e come ogni anno la festa della donna rappresenta per la CGL un'occasione di riflessione e bilancio sullo stato dell'arte e della parità dal punto di vista occupazionale gli ultimi dati Istat ratificano una situazione di persistente divario nell'accesso al lavoro tra uomini e donne per non parlare della disparità nei trattamenti salariali e nei diritti contrattuali aspetti a cui il governo sembrerebbe intenzionato a mettere mano con la riforma del mercato del lavoro le considerazioni a questo proposito di Patrizia Maestri, segretaria generale della CGL di Parma Prosegue in questi giorni il confronto sul mercato del lavoro con il governo confronto che si sta focalizzando su alcuni temi anche fra cui alcuni finti problemi come l'articolo 18 ma per il quale noi poniamo fortemente al centro quello che è il tema dell'accesso al lavoro e su questo tema vengono appunto fortemente coinvolte le donne e l'occupazione delle donne che ancora trova tantissime difficoltà soprattutto nell'accesso e nella qualità dello stesso lavoro Noi oggi abbiamo moltissime donne concentrate in quello che è il lavoro precario, contratti a termine donne che sono mediamente più istruite dal punto di vista scolastico degli uomini ma che hanno ancora questa difficoltà nell'inserimento quindi quello deve essere il tema al centro dell'attenzione del governo così come la condizione di vita e di lavoro delle donne con questa crisi è fortemente peggiorata abbiamo ancora delle discriminazioni molto forti sul salario, sulle normative e proprio a questo proposito noi siamo per chiedere al governo, al punto ministro Fornero di poter ripristinare la legge delle dimissioni in bianco legge del 2007 che è stata tolta dal governo Berlusconi e che tutelava le donne rispetto appunto a degli abusi delle imprese per fare in modo che le donne si licenziassero durante la maternità quindi questo è ancora un vincolo per il lavoro femminile l'occupazione in Italia è solamente al 42% quindi noi riteniamo che anche lo sviluppo di questo paese passi attraverso un'occupazione femminile molto più diffusa così come ci sta chiedendo la stessa Europa quindi questi temi collegati fortemente a quale modello sociale noi vogliamo in questo paese perché sappiamo benissimo che il lavoro delle donne ha bisogno di servizi ha bisogno di una conciliazione dei tempi cosa che diventa sempre più difficile solamente nel nostro territorio 250 donne nel 2010 si sono dimesse dopo la maternità quindi per mancanza di supporti, di sostegni al loro lavoro e questo è un problema e dicevo questi temi oltre a tutto quello che comunque riguarda sia appunto l'occupazione ma il welfare saranno al centro dell'assemblea territoriale che si svolgerà l'8 marzo quindi il giorno della festa della donna che noi vogliamo appunto festeggiare o comunque insomma celebrare con tutte le delegate del nostro territorio al cinema Edison insieme ad Anna Salfi, segataria regionale quindi metteremo al centro questi temi insieme anche a un po' di musica e a un piccolo rinfresco vi aspetto tutte quante delegate e pensionate del nostro territorio l'8 marzo al cinema Edison al mattino per festeggiare la giornata della donna aprite quelle porte no alle case prigione per gli anziani il sindacato pensionati della CGL ha lanciato a livello nazionale una campagna per il rispetto e la dignità delle persone anziane ospiti di strutture protette una realtà che anche a Parma presenta luci ed ombre sentiamo in merito Paolo Bertoletti segretario generale dello SPI CGL di Parma questa campagna vuole mettere all'attenzione proprio la condizione oggi dei servizi in tutto il paese io credo che la crisi stia colpendo pesantemente anche sulla qualità dei servizi erogati e gli anziani e serve molta attenzione più di quanto si stia dedicando perché noi siamo di fronte a un processo di deregolamentazione anche per quanto riguarda gli appalti che sta condizionando in modo assolutamente negativo la qualità dei servizi stessi non è possibile risparmiare proprio su queste prestazioni invece purtroppo vedo che per acquisire appalti sono costretti ad accettare i vari concorrenti delle condizioni che a noi non vanno assolutamente bene quindi noi aumenteremo questa vigilanza questo controllo facciamo appello anche ai familiari di segnalarci naturalmente tutti i disservizi lo faranno già anche gli operatori stessi però abbiamo bisogno davvero di riportare al centro questa attenzione nei confronti degli anziani che quando sono ricoverati nelle strutture protette sono nella fase più debole della loro vita quindi sono soggetti molto fragili e richiedono molta attenzione in più in piazza per costruire il futuro è in programma per il prossimo 3 marzo una manifestazione nazionale dei lavoratori delle costruzioni Tania Pesci della Fillea CGL di Parma ci presenta l'iniziativa il 3 marzo la Fillea CGL è organizzata unitariamente con le altre organizzazioni confederali una manifestazione a Roma per denunciare la profonda crisi in cui si trova il settore delle costruzioni negli ultimi 3 anni si sono persi all'incirca 300 mila posti di lavoro e è aumentata clamorosamente l'illegalità e l'irregolarità in questo settore per fare degli esempi è aumentato tantissimo il lavoro nero è aumentata l'evasione contributiva e fiscale non meno importante è aumentata l'influenza criminosa all'interno degli appalti del settore vi chiediamo di partecipare alla manifestazione organizzata da Fillea CGL e agli altri sindacati confederali contattando le nostre sedi CGL sul territorio e chiudiamo questa pagina con una notizia di servizio è attivo presso la Camera del Lavoro di Parma dall'inizio dell'anno il Centro Diritti uno sportello al servizio di tutti i cittadini lavoratori che necessitano di informazioni e aiuto nella compilazione di pratiche per il sostegno al reddito come disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti assegni familiari, detrazioni fiscali per figli a carico e diversi altri servizi il Centro Diritti è in via Casati Confalonieri 5A ed è aperto al pubblico dal lunedì al sabato martedì, mercoledì e sabato mattina e lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì al pomeriggio e siamo all'approfondimento dell'attualità sindacale è ormai imminente l'appuntamento di cui già abbiamo parlato nelle scorse puntate con i rinnovi delle RSU nel pubblico impiego e nei settori della conoscenza un fondamentale momento di democrazia in calendario il 5, 6 e 7 marzo prossimi tutti i lavoratori degli enti pubblici, comuni, province, stato e parastato, ministeri, sanità oltre ai lavoratori della scuola, dell'università, della ricerca, dell'alta formazione artistica e musicale avranno la possibilità di eleggere le proprie rappresentanze sindacali unitarie ma perché è importante votare e per quale motivo votare i rappresentanti della CGL lo chiediamo a due di loro Maurizio Miati della Funzione Pubblica CGL di Parma e Roberto Mosca, membro del direttivo dell'FLC CGL e ricercatore del CNR partiamo con Maurizio Miati, candidato per la Funzione Pubblica CGL Sanità presso l'azienda USL di Parma qual è il vostro programma e cosa rappresentano questi rinnovi? Ma diciamo che il programma della Funzione Pubblica di Parma è il programma della Funzione Pubblica Nazionale innanzitutto ci battiamo per la difesa e la riconquista dei contratti nazionali del lavoro che gli interventi legislativi degli ultimi anni ci hanno purtroppo bloccato e congelato quindi rendendo molto più difficile la difesa salariale per i lavoratori in seconda battuta la difesa e la riconquista dei diritti che sempre le politiche del governo Berlusconi e successivamente del governo Monti sono andati a toccare il rinnovo per noi è fondamentale la CGL è stato l'unico sindacato che si è battuto fino alla fine per ottenere la possibilità che i lavoratori potessero esprimere con il loro voto le rappresentanze sindacali ecco perché siamo qui a chiedere a tutti i dipendenti dell'azienda USL andare a votare e ovviamente il 567 porre la croce sul simbolo della Funzione Pubblica CGL l'invito ovviamente è steso a tutti i lavoratori del pubblico impiego Roberto Mosca, membro del direttivo dell'FLC, è un ricercatore del CNR qui a Parma cosa significa oggi per il comparto della ricerca e più in generale per i lavoratori della conoscenza questo appuntamento elettorale? è un appuntamento senz'altro molto importante questo perché dopo diversi anni è la prima volta che i lavoratori sono chiamati ad esprimersi e ad eleggere i propri rappresentanti nei posti di lavoro è una stagione abbastanza buia, la stagione dei ministri Brunetta e Gelmini che hanno sostanzialmente operato con i tagli ai finanziamenti, i tagli agli organici, i trattamenti di malattia in una direzione contro la quale la CGL si è sempre opposta, unico sindacato tra quelli maggiormente rappresentativi e si è opposta nell'interesse non solo dei lavoratori ma anche degli utenti che in questo caso sono nel settore della conoscenza rappresentano il futuro del paese in qualche modo in questo senso l'FLCCGL di Parma non ha accettato di sottoscrivere contratti di istituto che 13 dirigenti scolastici hanno sottoposto e hanno proposto in applicazione restrittiva della legge Brunetta per questo in questo momento votare per la CGL forse per la prima volta da quando abbiamo l'RSU a più significati, da un lato eleggere senz'altro i rappresentanti sindacali nei posti di lavoro dall'altro dare anche un messaggio forte, un messaggio chiaro sul fatto che vogliamo mettere al centro del progetto per il futuro del paese gli uomini, le donne e il loro lavoro e siamo anche convinti del fatto che alla fine soltanto un paese che abbia capacità di essere un paese solidale e coeso riuscire a uscire da questo tipo di crisi. Per questo noi lavoratori della ricerca invitiamo tutti i lavoratori a votare per le liste della CGL il prossimo 5, 6 e 7 marzo. Torna oggi la rubrica dedicata al consumo consapevole dove è come sempre con noi l'avvocato Silvia Dodi, consulente legale di Feder Consumatori Parma che ci parla di maltempo e trasporti. Anche quest'anno in inverno alla prima nevicata i trasporti sono andati in tilt, il 25% dei treni in Italia sono stati soppressi. Secondo le dichiarazioni di stessa Trenitalia 2.000 treni su 8.000 sono fermi, sostanzialmente il servizio universale che riguarda la maggioranza dei pendonari non funziona perché in inverno fa freddo e nevica. I contribuenti italiani pagano per i treni regionali il 70% del costo del servizio, mentre l'altro 30% è pagato dai viaggiatori con il biglietto. Ogni inverno assistiamo però ad una cessazione del servizio per motivi ampiamente prevedibili. Finora non abbiamo riscontrato nelle dichiarazioni dei rappresentanti di Trenitalia nessuna giustificazione plausibile. Quello che sappiamo è che le cause principali riguardanti il blocco degli scambi è il congelamento dei cavi che alimentano i treni e la vetustà dei locomotori che non prevedono difese sufficienti contro il freddo e il ghiaccio. Tutte motivazioni che una gestione attenta potrebbe prevedere ed evitare. Naturalmente ciò che fa notizia riguarda soprattutto i treni a lunga percorrenza, gli intercity, i ritardi di oltre 6 ore e il rischio di assideramento degli utenti all'interno dei vagoni. Molto meno si parla della vera e propria via Crucis che sono costretti a vivere i pendolari, costretti a viaggiare sulle carrozze più vecchie e scadenti. Trenitalia non se la può cavare con un rimborso del biglietto dopo ritardi di 4 ore. È necessario aprire un tavolo di confronto e valutare i rimborsi e gli indennizi per i viaggiatori delle lunga percorrenza e per i pendolari. Inoltre Trenitalia dovrebbe confrontarsi con le associazioni dei consumatori sulle misure che intende mettere in atto per prevenire ed impedire questi disagi in futuro. Se volete ulteriori informazioni e volete farci le vostre segnalazioni vi potete rivolgere alle sedi federconsumatori di Parma, Fidenza, Borgo Valditaro e Salso Maggiore Terme. Siamo ormai in chiusura, vi ricordo che potrete rivederci oltre che sul nostro sito www.cglparma.it in replica su questa stessa emittente lunedì 5 marzo alle 19.15. Nuovi lavori in corso, vi aspetta invece con una nuova puntata lunedì 12 marzo, ancora una volta alle 19.15 su Teleeducato. Grazie per averci seguiti e a presto! Grazie per aver guardato il video!